Musica 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 Abbiamo un nuovissimo menù di centrifughe e con quello si possono fare anche dei cocktail appunto con frutta fresca facciamo appunto sia pranzo che cena con una varietà grandissima primi, secondi e cibi etnici Musica Musica Tra birra artigianale è leggermente ambrata La fanno a Padova, qui in città ce l'abbiamo noi e qualche altro posto la particolarità è che ha un gusto intenso come se fosse doppio malto ma non lo è un risotto agli asparagi e delle penne con zucchine, gamberetti e curry Mirazio fuori! Musica 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 Musica